Eccoci a un altro video con me della Fondazione Valenzi, con me Lucia Valenzi perché poi qualcuno mi dice vabbè sì ma tu presenti a tutti quanti ma tu non ti presenti mai, ma lo do forse troppo per scontato. Voglio fare una chiacchierata con Alessandro Scippa che è regista e sceneggiatore e sta avviando un lavoro che naturalmente ci interessa tanto perché è sul periodo dell'aggiunta presieduta da mio padre, l'aggiunta d'amministrazione comunale che ci fu dal 1975 al 1983 a Napoli, appunto presieduta da mio padre Maurizio Valenzi ma poi aveva una solta schiera di assessori tra cui anche tuo padre, vero Alessandro, Antonio Scippa che in realtà era uno dei pilastri dell'amministrazione. Prima sull'aspetto della mobilità, del traffico fu conosciuto come l'assessore dei paletti, cioè furono i primi tentativi in realtà ecco una cosa che se pensiamo parliamo di più di 40 anni fa, si cominciava a cercare di contrastare il predominio delle macchine, delle automobili che imbadevano la città e poi sul bilancio insomma era uno decisivo, infatti lui è commercialista. Vabbè comunque quindi abbiamo risolto la questione dei padri e quindi ora possiamo passare a parlare del documentario. Intanto vorrei sapere come è nata l'idea, come è uscito fuori insomma di volerlo fare insieme alla produzione, alla Parallelo 41 di Antonella di Nocera e poi diciamo perché c'è come mai insomma questa attenzione per quel periodo. Allora il documentario si chiamerà La Giunta e racconterà appunto l'esperienza delle amministrazioni di Valenzi dal 75 all'83. L'idea è nata molto velocemente confrontandomi una volta con Antonella di Nocera, la produttrice che mi chiamò e cominciamo a parlare di possibili progetti e tutte e due avevamo avevamo questo mito di tuo padre, Maurizio Valenzi e avevamo delle curiosità su quell'epoca, un po' perché il papà di Antonella lavorava lì dal Sider, che sappiamo che era una realtà allora importantissima in città e è una realtà che Valenzi cercò di salvare e un po' per una mia questione personale perché avevo voglia di parlare anche della storia di mio padre e anche di un'assenza, quella di mio padre e quella di mia madre che erano comunisti e come tanti comunisti all'epoca spesso finivano per sacrificare magari degli affetti familiari alla grande famiglia del partito e con gli occhi di allora di me stesso bambino era insomma un qualcosa che magari mi faceva soffrire, poi col senno di poi ho capito le motivazioni, quindi diciamo che… Eri un bambino possessivo insomma… Eh vabbè, vedete, erano completamente assenti, cioè praticamente non c'erano, tornavano la sera tardissimo a casa e papà, che poi è una persona molto ironica, ha una grande capacità di farsi scivolare addosso tutto, forse lui dice spesso io non ho avuto un infarto quando facevo, quando partecipavo ai consigli comunali per questa mia capacità di ironizzare su tutto, però poi magari a casa il suo nervosismo un po' veniva fuori insomma. Cominciando ad ascoltare un po' di ex assessori dell'epoca ho notato che questa assenza dagli affetti familiari era un aspetto abbastanza comune, cioè la passione politica allora era totalizzante. e quindi questo film per me è un'occasione per fare i conti su questo, per raccontare anche un po' tutto il gruppo che c'era attorno a tuo padre, che è una figura mitica comunque di cui si è detto già molto e ne parleremo comunque ovviamente nel film, cioè tuo padre sarà come è stato nella realtà il primo protagonista, potremmo dire una sorta di regista. ecco questo film oltre al regista vogliamo cercare di mettere in luce anche la troupe che c'era attorno al regista, ecco quindi passare questa metafora come se l'aggiunta fosse la troupe di un film. Un giovane oggi secondo te che interesse può trovare nel confronto con quell'epoca? Beh, la prima cosa che mi viene da dire è che molti oggi collegano il cosiddetto rinascimento napoletano con l'esperienza della prima consigliatura di Bassolino, che è vero, quella ha avuto una grande importanza e ha ripreso delle importanti iniziative della giunta, però io mi sento di dire che il vero primo rinascimento napoletano c'è stato con le giunte Valenzi, perché la Napoli che loro cominciarono ad amministrare era una città che portava ancora dei segni pesanti nel dopoguerra. e fu anche un successo isperato quello della giunta Valenzi, perché non ci dimentichiamo che Napoli era una città profondamente di destra, era una città dove vinse la monarchia al referendum, era una città dove ci fu l'assalto dei fascisti alla federazione del PC. tutto ciò non accadde però all'improvviso, ci fu un processo di radicamento nel territorio del partito comunista, per esempio i compagni del PC diedero un apporto fondamentale quando ci fu il collera a Napoli nel momento in cui si dovettero fare le vaccinazioni. insomma ci fu un processo lungo e importante. Ci sono un milione di persone nel giro di una settimana, oggigiorno la cosa sembra veramente curiosa, nel senso che con i mezzi di allora. ma sì questa cosa che dicevi prima dei nervi, effettivamente io ricordo che anche mio padre ebbe un crollo forte, lui era una persona insomma molto solida da questo punto di vista, però a un certo punto mi pare dopo un paio d'anni credo, era talmente uno stato di stress che insomma non ce la faceva più e il medico gli disse che si doveva assolutamente allontanare, doveva stare 15 giorni più lontano possibile, quindi lui fece un viaggio e all'epoca non c'erano i cellulari, quindi riuscì veramente a isolarsi completamente e gli fece molto bene effettivamente. Da allora quando ritornò aveva questa capacità di distacco, diciamo, che era fondamentale perché se si lasciava, cioè la giornata intera era piena, cioè dal disoccupato sul cornicione che si voleva buttare giù, a crisi, svoraggini che si creavano e mille altri problemi perché poi c'è stato di tutto in quel periodo, c'è stato terrorismo, camorra, terremoto, però al di là insomma dei contenuti, volevo capire un po' che tipo di documentario sarà quando potremo vederlo, quando potremo, quando lo farà insomma. Allora, diciamo che adesso abbiamo iniziato a lavorarci, stiamo facendo delle prime interviste, quindi ci vorrà, sarà ancora un percorso lungo, ci vorrà più o meno un anno per finirlo. Sarà un documentario, diciamo, di creazione, quindi... Un docufiction, come dicono oggi? No, non proprio una docufiction, perché parti di finzione vera e propria non ce ne saranno. A me piace molto l'idea che nel documentario il lavoro del cinema non venga nascosto. Diciamo, nella finzione il lavoro del cinema si nasconde, in molti documentari invece il lavoro del cinema si mostra. E quindi anche noi raccontiamo questo processo di scoperta di questa epoca. ci sarò anch'io in prima persona che apparirò nel documentario, ci saranno anche altri figli e figlie di protagonisti di quell'epoca. E la parte che poi potrebbe essere di finzione, cioè quella con Renato Carpentieri che interpreta Valenzi, in realtà non sarà di finzione, perché io racconterò proprio Renato Carpentieri, cioè se stesso, che prova la parte di Maurizio Valenzi. Quindi diciamo che il processo è dichiarato. Poi nel documentario ci saranno dei materiali di repertorio, fotografie, che serviranno anche per vi così. A questo proposito, noi in un altro video con Maria De Filippis, che sta curando per noi delle ricerche, diciamo, sugli audiovisivi, avevamo pure detto che lanceremo una campagna, anche quella non subito, ma insomma, vorremmo fare una raccolta, diciamo, di documenti dell'epoca. E qualcosa potrebbe essere utile anche per questo filmato? Beh, sarebbe fondamentale, cioè a noi, in questo senso mi rivolgo a chi guarda questo video, se c'è qualcuno, qualcuna che possiede qualche vecchio filmino amatoriale girato all'epoca, che ritiene possa esserci utile, può magari contattare la fondazione, se ha voglia di condividerlo, poi capiremo come farlo. Però, ecco, a noi ci servono molto, ma anche materiali inediti e dei punti di vista anche non istituzionali. Sì, quindi se c'è qualcuno che ci vuole aiutare, benvenga, ecco. Va bene, allora con questo appello concludiamo. Insomma, buon lavoro. Grazie. Buon lavoro anche a noi stessi. C'è l'auto, curiamo. Grazie e arrivederci a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie a tutti. A presto. Ciao, arrivederci. Grazie a tutti.